si ma una cosa che l'intenzione originale la mia idea era una penitenza non tipo fare una serie oppure un video su catmario perché la gente vuole vedere catmario oppure marron merda la penitenza era tipo non so la idea originale era tipo fare una penitenza c'è una cagata tipo caffè e sale oppure ti ha detto come la vedete e poi ti ha lo sa della tua sconfitta netta ormai si lo sapeva già però ditemi voi a Caro Gio, ma devo guardare qua scusate, ok, caro Gio, è qui che potrai notare la differenza tra gli uomini e le persone come te, perché io, come ai tempi Socrate fece per la cicuta, sono pronto per scontare i miei peccati. Gio, come dissi a te una volta su Discord, non è importante fare le cose, ma come farle, farle con dignità. E oggi, io, con grande cuore, con grande umiltà, con grande dignità, sono pronto per bere il caffè al pozzato. Ragazzi, oggi vi mostrerò che Creepy Stories le promesse le mantengono. Caro Gio, prima di proseguire, sappi che questa è una delle tante battaglie che hai vinto, ma prima o poi io avrò la mia vendetta e sarà veramente, veramente pesante. Ti auguro una vita di restrizioni. Stacca, stacca. Stacca, stacca. Ma, cattroia, pensavo che facesse schifo, ma non fino a sto punto. Va a cagare. Le lacrime agli occhi. Questa me la pachi. Me la pachi tantissimo. Ma almeno non ho perso l'onore. Cioè, la dignità un pochino sì, però l'onore no. No, è stato abbastanza traumatizzante l'omenda. Vado a prendermi il mio yogurt. Intanto mi scuso per l'audio, però è cellulare purtroppo. È un cellulare di merda. E nulla, raga. Spero che questo video tanto vi sia piaciuto. Passate dal canale di Tumore97 per altre sfide di questo genere. Gio, tu sappi che io questa me la sono segnata. E vabbè, oltre a non spostorizzarti più, un'ora in poi, ti beccherai una... Nel mezzo out of nowhere, nel mezzo dell'estate, ti beccherai una sfida che perderai sicuramente perché tu sapevi che quella l'avrei persa. Quindi nulla. Col mio yogurt, al quale non posso fare pubblicità perché non si vede, comunque, è uno yomo. Uno yomo che scade... Oggi. Vi do appuntamento al prossimo video. Bye bye. Ciao. Ciao. Grazie a tutti.